bella ragazzi sono io mister Dilla sto parlando piano e tardissimo guardate sono le 0.39 di sera e voi vi chiederete ma Dilla perché registri a quest'ora oggi voglio fare il video dove vi riprendo mentre dormo dopo due anni sarebbe cambiato qualcosa beh adesso vedremo io ragazzi ragazzi i denti sono lavati ora inizio la strada con questa camera tutta la notte così posso vedere come dormo ok ragazzi adesso è il giorno precedente dell'ultima clip che avete visto praticamente adesso ragazzi andremo a reagire al video dove mi sono ripreso mentre dormivo ragazzi ma come ragazzi iscrivetevi il canale lasciate like e attivate la campanellina mi raccomando raggiungiamo i 150 like perché anzi con i like posso capire se un contenuto vi piace quindi lasciate un bel like scrivetemi nei commenti se questi video vi piacciono e se ne volete altri altri blog o altre cose del genere e niente ragazzi e detto questo ragazzi direi che possiamo iniziare ok ragazzi eccoci qua questo è il video che dobbiamo reagire ragazzi questo è un video molto importante andremo a reagire che praticamente l'ho registrato ieri e niente ecco qui sono i ragazzi già nel letto qui ragazzi sono ricordato non stavo ancora dormendo perché di cui mi ricordo io stavo così sdraiato con gli occhi chiusi ma stavo ancora dormendo cioè ero ancora sveglio in realtà era nella fase dormiveglia c'è la fase dormiveglia che tipo tu chiudi gli occhi e cerchi e dormi ancora ma senti tutto è sempre sveglio e quindi ci vuole un po' per addormentarsi vediamo cosa succeda andiamo più avanti non mi sono mosso ecco qua mi sono mosso vediamo quel certo ragazzi mi sono mi sono mosso cerca vediamo cosa ho fatto ok mi sono girato come fai domini così come fai vabbè andiamo un po' avanti ora sto così per un bel po' di tempo e qui mi sono mosso perfetto ok guardiamo cosa succede qua qui mi sono mosso anche molto qui mi sono molto mosso ragazzi vediamo mi gratto ok anche l'orecchia o qui faccio beh comunque se vi chiedete perché l'armadio qua è rotto e cosa vabbè comunque è rotto se niente tra poco avrò la camera nuova ragazzi quindi non mancate la camera diventerà una figata poi vi farò il tour se lo volete scrivetemi quando arriverà la nuova camera se volete tutto ora ragazzi andiamo avanti vediamo qui mi sono mosso qui qui mi sono mosso di nuovo aspetta qui mi sono mosso mi gratto di nuovo ok prendo le coperte e mi giro così ok mi sono mosso e sbadiglio 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 mentre dormo vabbè ok come vai a sbadigliare mentre dormi no 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 dillo del passato non sai se dillo ne sbadigliare contagioso qui mi sono di nuovo mosso vediamo cosa succede vediamo un po' avanti qui mi sono mosso ai 42 minuti cosa succede ai 42 minuti russo russo io ma f*** tu da quando un'altra grattatina al naso ok di nuovo un'altra grattatina vabbè ragazzi che ci sono che ci sono che ci sono qui ci sono un'altra grattatina e un'altra grattatina è che ci sono una grattatina e è un'altra grattatina che fosse come vabbè a Grazie a tutti E' distraccio Cosa ti fate la taglio E' distraccio E' distraccio Qui non succede niente di che ragazzi Vediamo un po' qui Sto così per un po' di tempo Eh qui si muove qualcosa Vediamo Purtroppo non si vede niente per la luminosità scarsa Della tv però Ecco qua mi sto muovendo Mi sto grattando Che sto facendo Con quella mano Cos'era sta roba Vabbè Senza coperta Ma dai non era successo come due anni fa Che mi sono svegliato e ho guardato così intorno Dormo così Per quanto tempo dormo così Ragazzi sto dormendo così Da ormai minuti Tre ore di clip Quindi siamo già a metà adesso Ah ragazzi scusatemi per il disturbo Ma devo ragazzi comunque salutare le tre persone che hanno trovato la parola segreta Nell'ultimo video Infatti ragazzi devo salutare Davide Castelvenere Girolamo Marti E Ilaria Papapia Quindi ragazzi grande che avete trovato la parola segreta Mi raccomando trova la parola segreta anche tu Se vuoi essere salutato Ciao belli Che cosa ho detto Vabbè cos'era Aspetta Mi sono basso Vediamo Ragazzi ho fatto una cosa Cosa ho fatto con Adesso Mi sono grattato Che sto sognando Che qui mi muovo Ancora E quanto mi muovo Mi sono mio Quanto mi muovo Vabbè non è mai Non sono mai stato fermo Quando dormo Tre ore di sono Qui c'è un altro Qui dormo adesso così Per già da qualche ora Minimo un'ora Che dormo così Minimo un'ora ragazzi Così fermo Bellissimo Ancora Eeeh Quanto mi muovo io Vabbè ragazzi Io mi muovo tantissimo Ragazzi Ragazzi vi muovete nel sonno Non lo so Provate anche voi A registrarvi E vedete cosa fate La mano Ho mosso la mano Tipo ho messo il pugno Cosa stavo sognando Non mi ricordo Ma dai Ora dormo così Poi di nuovo così Ragazzi ma io Solo così dormo Cos'è sta roba Vabbè Questa Grazie a tutti E la gamba giustamente Così Vabbè no Ragazzi di nuovo Mi sono mosso Vediamo un po' Ragazzi Questo era il video Ragazzi Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi Lasciate il like E si date la campanellina Se questo ragazzi Vi è piaciuto Noi ragazzi ci vedremo In un prossimo video Ciao belli Spero che almeno Ho registrato l'audio